Un'elezione all'unanimità per acclamazione, Rossino Ballone come l'ha accolta intanto? Come deve essere accolta? Con grande soddisfazione, è stata una cosa meravigliosa perché dopo un lungo dibattito all'interno del sistema confindustriale il sistema è riuscito ad esprimere all'unanimità, anzi per acclamazione ancora meglio, la mia candidatura e questo mi riempie d'orgoglio da un lato ma mi carica di responsabilità alle quali tenterò di dare le risposte giuste. Oggi qui per presentarsi al mondo politico, economico e sociale della Regione a che scopo? Per dare la scossa, possiamo definirla così, per dare una scossa al sistema, ribadire la necessità di attivare una serie di iniziative sulle quali la politica naturalmente dovrà fare la propria parte. Le linee di azione programmatiche del suo mandato o le saranno? Sono linee che investono lo sviluppo, l'occupazione, il credito, i fondi europei, la internazionalizzazione, ecco sono i titoli del programma. Per quanto riguarda i fondi europei, lei a breve affronterà un viaggio? Ho già programmato un viaggio a Bruxelles per il 15 e 16 di aprile, prenderò contatti con le autorità europee per verificare lo stato dell'arte dei fondi, le modalità per consentire alle imprese anche di attivare fonti di finanziamento diretti. Per quanto riguarda la costituzione di un'unica Confindustria regionale, quali saranno i tempi? Io credo che siano brevi, non riesco a quantificarli, però in questo momento ci sono le condizioni, ci sono le persone giuste e quindi sono convinto che arriveremo rapidamente alla soluzione. Dovremmo arrivare a eliminare le divisioni territoriali, quindi che attualmente l'organizzazione è fatta su base provinciale, bisognerà arrivare alla Confindustria regionale unica, vale a dire abolizioni delle autonomie locali.